Ti piacerebbe imparare a confezionare e cucire con le tue mani una gonna Chanel con un finto effetto portafoglio? Ti piacerebbe imparare a conoscere come modificare il cartamodello, come rendere ogni cartamodello di gonna tubino perfetto per una gonna portafoglio? Hai voglia di imparare ad applicare correttamente un cinturino, creare una gonna con un finto spacco e andare ad applicare una cerniera zip invisibile direttamente su gonna più cinturino? Se hai voglia di confezionare con me questa gonna Chanel, sei nel video tutorial giusto? Bentornate cuciamiche e cuciamici della vostra Sarapogliese, socialist ed esperta di cucito In questo nuovo video vi condurrò assieme a me passo passo alla scoperta di un approfondimento dedicato alla gonna tubino Chanel con spacco frontale o anche portafoglio o anche faldone Troviamo le nomenclature che desideriamo per andare a realizzare fondamentalmente una gonna non chiusa ma con un sormonto nella parte frontale Un tutorial ideale per te che sei alle prime armi con il cucito sartoriale e vuoi realizzare un capo davvero di effetto Un tutorial perfetto anche per te se già sai cucire ma hai voglia di conoscere tutti quei trucchi smart che rendono il tuo cucito molto più moderno, molto più veloce, molto più preciso e davvero a portata di click Ma prima di entrare nel vivo andiamo a cliccare un bel pollicione alzato sotto a questo video e lo stai visualizzando il pollicione proprio sotto al video che stai guardando È un modo per farmi capire che questo e tutti i miei contenuti in generale ti stanno piacendo ed è il modo per farmi capire che vuoi ancora più contenuti Oltre ovviamente guarda il video fino alla fine perché scoprirai trucco e parrucco dedicato al cucito sartoriale Vi ricordo che soprattutto a te che sei nuova magari del mio canale puoi andare a trovare i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale anche sul mio canale youtube Sarapogliese, la mia pagina facebook Sarapogliese e il mio blog sarapogliese.com che è un fantastico contenitore di contenuti dedicati al cucito creativo, al cucito sartoriale Potrai trovare tanti tutorial divisi per area tematica, potrai trovare tanti tutorial dedicati agli strumenti di cucito, alle macchine per cucire, alle tagli a cuci Nonché sfoglieremo assieme le riviste e troverai anche i link per andare a connetterti con me per le dirette live che vado a tenere ogni fine mese Scoprirai poi gli approfondimenti che puoi trovare nel mio shop dedicati alle lezioni individuali, ai coupon per regalare il cucito a chi vuoi, ai corsi di gruppo e anche ai cartamodelli E proprio parlando di corsi di gruppo volevo comunicarti che con immensa gioia e anche orgoglio personale è nata la mia seconda nuova creatura dopo un bel po' di anni dalla prima che è sarapogliese.com E questa seconda creatura si chiama sarapoglieseacademy.com, uno spazio digitale interamente dedicato al learning per imparare a cucire online meglio ovunque Puoi scegliere i tuoi corsi, puoi selezionare tutti i corsi che desideri, divisi per categorie, divisi per tutti i corsi, quelli ai quali ancora non ti sei iscritto, i corsi recenti, i corsi più popolari E puoi veramente scoprire e portare il cucito a portata di click per un corso disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comodamente a casa tua, in totale sicurezza Ma torniamo a parlare di gonna Chanel e nel dettaglio di gonna a portafoglio in questo portafoglio finto e facile Perché lo definisco così? Perché parliamo del cartamodello Infatti il cartamodello che ho scelto per questo progetto è il cartamodello del taglio d'oro supplemento numero 318 Il taglio d'oro è un cofanetto con cui possiamo realizzare tanti modelli diversi E ci sono poi la possibilità di creare i modelli in due semplici misure La circonferenza seno per tutti quei modelli come la camicetta che richiedono l'utilizzo della circonferenza seno E la circonferenza fianco come la gonna per tutti quei modelli che richiedono l'utilizzo della circonferenza fianco Se avessimo un abito invece abbiamo bisogno di prendere la circonferenza seno per la parte del corpino La circonferenza fianco per la parte della gonna e unire poi il cartamodello secondo le nostre personali sdifettamenti di misure Questa gonna che è la gonna del progetto di oggi è dotata di un cinturino intero semplicissimo Una gonna davanti più ampia perché ha il sormonto e un'altrettanta gonna davanti che è la parte sottostante al cartamodello stesso Infatti quando andiamo a vedere il modellino vediamo che abbiamo la gonna dietro con la pence La cucitura centrale dietro dove metteremo anche poi la pence e andremo a cucirne il fianco Il fianco bacia il fianco della gonna davanti sinistra che è la parte di gonna più ampia Che è esattamente questo fianco e tutta questa zona centrale di gonna Questa gonna infatti è un po' spostata dal centro lo riconoscete dalla visione della camicetta con la lista bottonatura Perché il sormonto, quella parte di tessuto che viene aggiunta è esattamente questa parte che va dalla riga tratteggiata a sinistra E copre tutta l'abbondanza tecnicamente del sormonto Pertanto questa gonna ha il suo centro davanti fino al fianco che è esattamente lo stesso pezzo di quest'altra gonna La gonna destra La gonna destra è fatta dal fianco al centro davanti Centro davanti che è esattamente uguale Ritroviamo qui nel centro davanti della nostra gonna più ampia Quella che va a sormontare Pertanto potete anche ricalcare il cartamodello della gonna davanti E aggiungere semplicemente la parte di sormonto della gonna stessa Così siete sicuri, il consiglio personale, di realizzare una gonna davanti perfettamente simmetrica Sia il lato centrale dove poi vado ad aggiungere il sormonto Sia, perché alla fine è un rettangolo, il fianco della gonna davanti che mi presenta la completezza del cartamodello stesso Abbiamo poi quindi un dietro, un davanti sormontato e un davanti sotto al sormonto stesso Abbiamo l'opportunità di personalizzare il sormonto anche del quantitativo di tessuto che vogliamo E poi abbiamo un cinturino decorativo per l'altra gonna Per cui un cinturino un attimino sagomato fondamentalmente Mentre abbiamo un cinturino dritto, semplicissimo, liscio Che si chiude nel centro dietro con la cerniera zip invisibile Che è rappresentato da quest'altro rettangolo E vedremo poi anche come costruire in maniera smart il nostro cinturino a su misura Nel cinturino comunque sarà la somma della nostra gonna dietro Più la nostra gonna davanti, annetto ovviamente delle pence Moltiplicato per due, perché mezza gonna davanti Più ovviamente l'altra mezza che mi rappresenta il totale della mia gonna davanti E poi salto a tutti gli effetti il conteggio del sormonto Perché non mi interessa il sormonto un elemento che viene sormontato a livello estetico Ma non crea il cinturino a tutti gli effetti E poi il cinturino ovviamente vado semplicemente a misurarlo Prendendo la misura del mio cinturino dietro Per cui è veramente molto semplice andare a creare, personalizzare E approfondire quello che è l'utilizzo di un cartamodello taglio d'oro Il tessuto ideale Per realizzare questa gonna ho deciso di scegliere il tessuto Chanel Lurex di panini tessuti È un tessuto molto leggero, particolarmente maneggevole Che posso... è un tessuto fermo, non è stretch Per cui è un tessuto che si presta particolarmente a gonne, a giacche, ad abitini La gonna Chanel poi ha questa tramatura leggermente quadrettata Che rende particolare il tessuto E ha però una piacevolissima morbidezza Nonché un'eccellente luminosità, brillantezza Data proprio dal tessuto stesso Vi ricordo che trovate tutto l'elenco dei materiali di cui sto parlando Linkato nella descrizione di questo video E potete semplicemente accedere alla descrizione Cliccando sul titolo del video che state visualizzando E vi comparirà la descrizione completa Non essendo un tessuto stretch Attenzione a non fare la gonna troppo stretta Mi raccomando, eh Per cui cercate di avere una gonna dal taglio un attimino morbido Quanto meno non aderente Vi ricordo che se state invece visualizzando questo video da smartphone Per vedere l'infobox Cioè la descrizione del video Vi basterà cliccare o appunto sul titolo del video E vi comparirà la descrizione completa O se lo state visualizzando da computer Per cui da desktop Sotto al video trovate il titolo Sotto al titolo dopo circa due o tre righe Trovate la parolina mostra altro Quella parolina se ci cliccate sopra Vi permetterà di far vedere la descrizione completa All'interno della quale troverai anche il minutaggio preciso Di ogni argomento che ho trattato Il cartamodello, il tessuto, la taglia cuci Tutte le argomentazioni che ci serviranno Per perfezionare questo progetto Per cui mi raccomando Infobox uguale descrizione del video E la trovi linkata qui sotto Le fliseline Le fliseline per quest'abito Sono furbissime e geniali Abbiamo la gonna davanti Che come vedi È una gonna semplicemente sormontata Il davanti Con un sormonto rispetto al sotto Questo sormonto Altro non è Che un quantitativo di tessuto Che io decido di ripiegare internamente Ma che ho bisogno di stabilizzare Infatti dove sto passando la matitina Cioè nel bordo del margine di cucitura Ho bisogno di stabilizzare il tessuto Chanel Con una fliseline alta 2 cm E poi in prossimità del ripiego Vado ad applicare nuovamente un'altra fliselina Perché? Perché se non ho a casa una fliselina a metraggio Posso andare ad applicare la fliselina da 2 cm Quella classica da dritto filo Che è la fliselina che stabilizza le cuciture Sia nel margine di cucitura stesso In modo tale che impedisco il tessuto di sfilare Sia in prossimità esatta Del ripiego del tessuto E questo mi permette infatti Di avere una stabilizzazione del tessuto Che non cederà più In prossimità della piegatura del tessuto stesso Or dunque avrò una piega che sarà bella in forma Senza appesantire il tessuto Senza irrigidirlo E vedi che anche tirando Anche simulando uno strappo nella gonna Hai una perfetta tenuta Una perfetta vestibilità della gonna stessa Proprio grazie a queste fliseline in dritto filo Che sono super leggere Pertanto non danno spessore Non danno rigidità Ma danno un'ottima tenuta Questo lavoro lo faccio anche Non solo nel sormonto superiore Ma anche nel sormonto inferiore Perché il mio consiglio personale è Decidi di quanto vuoi sormontare La tua gonna davanti Destra O meglio sinistra E adesso prendi la tua gonna davanti Destra E fai lo stesso lavoro E la gonna è inferiore Pertanto prenditi il margine di cucitura E lo adesivi Lo stabilizzi Lo fliselini Con la fliselina alta 2 cm Dedicata al dritto filo Poi ripieghi la gonna Nella posizione di ripiego Che desideri ottenere Magari vuoi anche un ripiego più importante E in prossimità della ripiegatura Vai ad adesivare nuovamente Con la fliselina Il tuo tessuto Soprattutto usando magari Una fliselina bianca Su un tessuto bianco Che così vedi che è davvero invisibile E ottieni queste due strisce di fliselina La prima al margine del tessuto E la seconda proprio in prossimità Della ripiegatura della stoffa stessa Che permettono eccoci qui Di ripiegare il tessuto Proprio sopra alla fine della fliselina E ottengo un tessuto perfettamente In posizione Con il giusto garbo E posso rifinirlo poi con un sottopunto a mano Se non voglio cuciture a vista Oppure come vedremo qui prossimamente Lo andremo a cucire con un trucco speciale Perché comunque non si vede assolutamente Nel tessuto Chanel Se andiamo ad effettuare una cucitura Perché è un tessuto molto poroso Adesso che tecnicamente Abbiamo imparato a fare la piega Dobbiamo semplicemente Piegare il nostro tessuto Darci una bella stirata E voilà Se ci fate caso Il sormonto Il portafoglio Il finto portafoglio È già preparato Con l'ausilio Delle giuste fleseline La tagliacuci La tagliacuci è la mia alleata Di cucito speciale Infatti non potrei farne senza Per lavorare il tessuto Chanel A dovere Avremo infatti bisogno Di utilizzare La sorfilatura Inferiore In tensione neutra In modo tale Che ho La sorfilatura inferiore Perfetta La sorfilatura superiore Neutra L'ago destro Neutro Mentre per quanto riguarda L'ago di sinistra Lo metto anche a zero Perché non sto usando L'ago sinistro E mi raccomando Togliete l'ago Quando non lo utilizzate Non andate in tagliacuci Con due aghi Anche se ne usate uno solo La leva per l'orlino Arrotolato Verso la tagliacuci E il pomello Di regolazione Dell'ampiezza del taglio Lo modificate Facendo un paio di prove A seconda della vostra Necessità Di sorfilatura Ricordiamoci che dobbiamo Usare tre fili Un sorfilio inferiore Un sorfilio superiore E l'ago di destra Per cui il quarto Spolone di filo Non esiste In questo momento Ok E vado con la tagliacuci Ad alzare Il piedino Della tagliacuci Grazie alla levettina Nera O bianca Insomma che solitamente Passa sulle nostre tagliacuci Alzo la levettina Inserisco La stoffa Abbasso Il piedino E comincio A tutti gli effetti Ad effettuare Una sorfilatura Tenendo il dito Proprio nella placchetta Della tagliacuci In questo modo Non sorfilerò Né troppo Né troppo poco E otterrò La cosiddetta Sorfilatura Tagliando zero Cioè tagliate davvero Solo il polviscolo Della polvere Del tessuto Chanel E in questo modo Andiamo a sorfilare Completamente Totalmente Tutti quanti I pezzi Della nostra gonna Gonna davanti Destra Gonna davanti Sinistra Gonna dietro Che è stata tagliata In due pezzi Perché ovviamente Abbiamo il dietro destro E il dietro sinistro Il cartamodello Del dietro Era completamente Specchiato La tagliacuci In questo caso Non chiedetemi alternative Perché la tagliacuci Non sfilerà più Il tessuto Chanel Senza tagliacuci Il tessuto sfila Quindi è inutile Pensare di fare Il punto zigzag L'unica alternativa Che potete fare Valida È profilare Tutte le cuciture Con il nastro sbieco Come avete visto Nei miei video tutorial Correlati Come cucire Il nastro sbieco Che ve lo lascio Il linkato qui sotto In modo tale Che possiate vederlo E approfondire Anche la tecnica Di rifinitura Con lo sbieco Pertanto Se avete la tagliacuci A casa Il tessuto Chanel Con la fliselina Nel dritto filo Della lista Ripiegatura Non avrà più segreti Se non avete la tagliacuci Piano A Fateci un pensiero Piano B Rifinite tutto Con il nastro sbieco In modo tale Che il tessuto Non ceda più Non sfili più E pertanto Non si rovini Le cuciture Principali Le cuciture Delle principali Della nostra gonna Sono davvero facilissime Ho spillato La ripiegatura Della mia gonna Davanti sinistra E allo stesso modo Dopo aver ripiegato Il tessuto In maniera Sempre parallela Vado a ripiegare E stirare Anche il tessuto Della mia gonna Davanti destra Ecco qui il sormonto E la gonna Tecnicamente risulta Già a portafoglio Come faccio Come faccio però A cucire Tutto questo sormonto Così ampio Se non sto facendo Imbastiture Punti molli O marche varie E se non sto neanche Utilizzando Il filo da imbastire Mettiamo un semplice Punto dritto Il punto 1 Della nostra macchina Per cucire Andiamo a prendere Il primo tessuto Della gonna Davanti Che dobbiamo andare A profilare E dobbiamo gestire Dunque Un ripiego Di 3-4 cm Un ripiego Molto ampio Innestiamo Il doppio trasporto Se abbiamo una macchina Con il doppio trasporto Integrato Perché qui lo Chanel Sembrerà Cotone Semplicissimo Perché il doppio trasporto Integrato Mi permette Di far scorrere Agevolmente Il tessuto Sopra e sotto E utilizziamo Il piedino Con guida regolabile È una genialata Perché ci permette Di mettere La guida regolabile Al massimo Ed eventualmente Se non ce l'abbiamo Possiamo intanto Ovviare Con un pezzo Di scotch Carta Posto sotto Gessando Con la matita Ma vi assicuro Che il piedino Con guida Ci aiuta Un sacco Perché la guida Di plastica Permette di bloccare La stoffa Noi spostiamo L'ago Completamente A sinistra Come stai vedendo Adesso E in questo modo Ottengo Un margine Di cucitura Di quasi 4 cm Bello ampio Con il quale Posso direttamente Cucire Sul diritto Della mia Gonna Pertanto Sul diritto Del ripiego Del pannello Frontale Della mia Gonna E togliere Gli spilli Che ho Appositamente Messo In trasversale Perché in questo modo Posso effettuare Una cucitura Perfetta A portata Di macchina Per cucire E soprattutto Una cucitura Che grazie A doppio trasporto Integrato Che come vedi Mi sta alzando Il piedino Ogni volta Che avanza Permette al tessuto Chanel Di arieggiare Scorrere E prendere fiato Fondamentalmente E portarsi avanti In questo modo Non si crea Neanche una bolla E non devo Invastire Perché il mio progetto Come vedi Lo sto cucendo Con te Passo Per passo Pertanto Se utilizzi Il doppio trasporto Integrato E il piedino Con guida Regolabile Sei sicuramente Certo O certa Di ottenere Un ottimo risultato La mia cucitura Infatti Continua ad essere Perfettamente pulita E lineare E ti consiglio Di utilizzare Questo piedino Per tutte le cuciture A venti margini Importanti Come gli orli Dei pantaloni Come in questo caso L'orlo del ripiego Della gonna Perché a tutti gli effetti Se tu ci cambi il verso È l'orlo di un pantalone È un tessuto Ripiegato Di un tot Di centimetri Potresti utilizzare In alternativa Un adesivo Per quest'orlo Però Onestamente È una soluzione Che al momento Non ti consiglio Perché una passata Di macchina da cucire In questo caso È molto più semplice Molto più pulita Perché la cucitura Davvero Non si vede E infatti Eccoci qui Con una cucitura Che è davvero Invisibile Ma è molto pulita E soprattutto Mi ha permesso Di fissare Quella parte Di finto portafoglio Della mia gonna Davanti Destra Adesso ci occupiamo Dello stesso lavoro Della gonna Davanti sinistra Una volta effettuato Questo lavoro Riprendo il mio Cartamodello Originale Che era proprio questo Della gonna Davanti Lo sormonto La gonna davanti Si fermava al centro Per cui Perfetto Simulo Con uno spillino Il mio centro Della gonna E sormonto Esattamente Su quello spillino La centratura Della mia gonna Ed ecco Realizzato Il finto portafoglio Ti piace? Fammelo sapere Con un bel pollice Si hanno alzato Su questo video Perché così capisco Se questo dettaglio Ti è davvero piaciuto Andiamo pertanto A spillare Alcuni spillini Messi sopra Il sormonto E posso Semplicemente Andare a Cucire Il sormonto Della mia gonna Io solitamente Vado a cucire Il sormonto Posso anche Lasciare il piedino Che stavo usando prima Tanto è proprio Una cucitura Di utilità veloce Che mi permette Di non utilizzare L'imbastitura O i noiosi I punti molli Ci faccio Una bella saldina Veloce E a tutti gli effetti La mia gonna doppia È diventata Una gonna singola Alla quale adesso Prendo semplicemente La gonna dietro La spillo Lungo il fianco Dietro La cucio Lungo il fianco Prendo poi E l'apro un pochino L'altra gonna dietro Che ho a disposizione Perché l'ho tagliata Un doppio Vado a spillare Posizionare Prima bene Il fianco Della gonna dietro Sul fianco Della gonna davanti Lo spillo tutto E lo cucio Rispettando il margine Di un centimetro Oppure un centimetro e mezzo Come desiderate Vi consiglio Uno e mezzo Vado poi Vado a cucire Questa cucitura Del centro Dietro Che è la cucitura Dove poi Lascerò l'apertura Per la cerniera Lampo Invisibile E grazie a questa Che desiderate Io questa volta Ho preso un cinturino Veramente molto basso Eccolo qui Che lo ripiego E sono andata Semplicemente A cucire Il cinturino Alto Due centimetri Nel lato esterno Due centimetri Pertanto nel lato interno Più un centimetro Di margine Interno E un centimetro Di margine Esterno Sono andata Pertanto a crearmi Due davanti Due dietro Più un margine Più un margine E un cinturino Alto 6 centimetri Bene Avete capito Come si costruiscono I cinturini Prendo un cinturino Alto 6 Ci adesivo La fliselina Per dritto filo Solo nel davanti Solo nel davanti Solo nel davanti In modo tale Che il mio dietro Sia leggerissimo Perché uno dei problemi Del tessuto chanelle Che è grosso E ci ingoffa Invece in questo modo Per questa casistica Possiamo direttamente Cucire Dritto contro dritta La striscia del cinturino Che abbiamo visto Essere alta 6 centimetri Andare a cucirla Larga quanto Gonna dietro Gonna davanti Gonna dietro Uniamo il tutto E una volta Che abbiamo fatto Il cinturino Lo stiriamo Verso l'alto In modo tale Che la stiratura Appiattisca bene Il nostro lavoro E andiamo poi Semplicemente A applicare La cerniera Zip invisibile Fino Alla ripiegatura Del cinturino stesso Come avete già visto Nel mio video tutorial Correlato Come cucire La cerniera Zip invisibile Realizzato con Il piedino Per cerniera invisibile E il piedino Per cerniera standard Ti invito a guardare Il video specifico Ne ho parlato Un sacco di volte E quel video È specificissimo Perché non lo inserisco Ogni volta In un progetto Che vado a realizzare Dal vivo Nel tutorial E vatti a rivedere Questo video Perché ti insegna Proprio a montare La zip perfetta Ma se ancora Non l'hai visto Il mio consiglio personale È di prendere Una cerniera più lunga Di quello che ti serve In modo tale Che quando devi Applicare la cerniera Il cursore Possa agevolmente Ritornare Verso la parte Diritta Pulita Della cerniera E tu possa Eccoci qua Alzare la cerniera Senza alcun problema E ottenere pertanto Una perfetta cerniera Applicata Qui ho il margine Di 1,5 cm Dalla cerniera stessa Ed ecco Come ti rifinisco Alla perfezione La cerniera stessa Con il cinturino Che diventa A tutti gli effetti Una paramontura Interna Perché vado a spillare Il cinturino Proprio all'interno Della Mia Gonna stessa E gioco Sul ripiegare Di più o di meno Il cinturino In prossimità Della zip Se magari Hai sbagliato Un pelino La cucitura Nessuno ti vedrà La paramontura Per dentro Per cui anche Se è un pochino Più lunga Per dentro L'importante È che esternamente La cerniera Risulti Perfettamente Simmetrica Nel finale Come infatti È in questa Visione qui Che adesso Comunque andrai A vedere Anche nel dettaglio Proseguo Passando sopra Il sormonto Della gonna E spillando Semplicemente Il mio cinturino Semplicissimo Perché devo Semplicemente Dare una cucitura Tutto intorno Al mio tessuto E questa cucitura Mi permette Proprio di andare A creare Eventualmente Se volessi Non solo La cucitura Del cinturino Ma anche Una cucitura Dritta Per andare A chiudere Un pochino Lo spacco Perché talvolta Mi viene detto Preferirei Avere lo spacco Un po' più Chiuso De gustibus Questo è Un'opzionale La cerniera Zip invisibile Diventa veramente Molto 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 Bella Ed estremamente Pulita Perché sono andata Semplicemente A cucirla A dovere Con il piedino Per cerniera Invisibile Il piedino Per cerniera Standard E il trucco Della rifinitura Nella parte Superiore Della cerniera Guarda Quanto è bello E tu puoi tirare Più giù O più su La paramontura Del cinturino Per far Combaciare Alla perfezione Poi La striscia Del tuo cinturino E puoi Pertanto Ottenere un cinturino Molto molto pulito Che devi appunto Semplicemente Cucire O se vuoi Puoi anche Darci un sottopinto A mano O se vuoi Puoi anche Cucirci la fodera Nel mio video tutorial Come cucire Una gonna Tubino Con fodera Perché è proprio In questo step Che sono andata Ad applicare In tal caso La fodera Io questo progetto Lo voglio sfoderato L'orlo Alla Gonna Andiamo a vedere Come realizzare L'orlo alla gonna Ormai stiamo Indirittura D'arrivo L'orlo Sormontato Può essere più facile Di quello che pensi Io sto infatti Scegliendo Di utilizzare Un adesivo L'adesivo Fondamentalmente Mi permette Di stirare La striscia Di adesivo Alto 3 Alto 4 Alto 5 Centimetri Alto quello che desidero In questo caso Io ho scelto Un adesivo Alto 3 Vado a Stirare Con il ferro da stiro Tutta la prima striscia Di adesivo Che poi andrò Semplicemente A ripiegare Il bello Di questo adesivo È che Ha un doppio Strato adesivo Per cui Prima posso stirare Con la gonna aperta Poi posso Staccare L'attaccatura Della pellicola Protettiva Della cartina Fondamentalmente Che mantiene Protetto Il ferro da stiro Durante la prima Operazione Di stiratura E intravedete Comunque Una lucidità Una brillantezza Nel tessuto stesso E la fliselina Vi garantisco Che resta Adesivata A condizione Che dopo Ogni lavaggio Ci ridiate Una passata Cioè Ravvivate Il collante Con una stiratura A secco Cioè Non usate Vapore Una volta Che ho tolto Tutta la colla Mi viene Veramente naturale Piegare la stoffa All'altezza Corretta Perché Questo stabilizzatore Questo collante Mi dà Un leggero Spessore Che mi fa capire Quando rigiro il tessuto Qual è la corretta posizione Però per evitare Errori O imprecisione Potete comunque Utilizzare Un righellino Che vi aiuta Nell'operazione Di ripiegatura Sempre Spillin perpendicolare In questo modo Potrete far combaciare Alla perfezione Anche l'orlo In prossimità Delle cuciture Dei fianchi Oppure della cucitura Del centro dietro E la bellezza Di questa finitura È che non avrà Una cucitura a vista Ed è bella Da utilizzarsi Volendo Anche nel ripiego Frontale Della gonna Dove abbiamo fatto Lo spacco Sormontato Io ho voluto apposta Darvi due tecniche Diverse Per farvi Proprio capire Le opzioni Confronti Ma volendo Potreste adesivare Tutto il pezzo Di gonna davanti Del sormonto E adesivarne Anche l'orlo Così sarebbe davvero Una gonna Completamente Senza Cuciture A vista Andiamo a vedere Assieme Il progetto Completato Il progetto Completato È questa gonna A tubino Con cinturino Alla quale Ho effettuato Circa Una cucitura Di 15 cm Davanti Esattamente In questo punto Per andare a fermare Un pochino Il ripiego Il sormonto Il portafoglio Finto Che ho realizzato Una semplice cucitura Sono circa Tre spanne E appunto Per me Sono circa 15 cm Fondamentalmente Bloccatela Se volete bloccarla A livello del fianco Più o meno Sono andata poi Ad adesivare Pertanto Tutta la gonna Con l'orlo adesivo Invisibile La gonna è sormontata Con questa Cinturina Con questa Cernira zip Che a tutti gli effetti La rende una gonna A tubo classica Perché è una gonna A tubino Chiusa Perché il portafoglio È finto E grazie Al trucchetto Della cernira Zippo invisibile Del piedino Con la zip Invisibile Del piedino Standard E con il piedino Con guida Regolabile Ho potuto Realizzare Questa gonna In men che non si dica Completamente sfoderata Soprattutto Sulla mia misura Grazie anche al piedino Per la guida regolabile Ho potuto Creare le cuciture Perfette Del sormonto Della gonna Stessa E questo è un plus Davvero non indifferente Per una gonna Che frontalmente È lavorata Dietro È una classica Gonna A tubino Con Cernira Zip Centrale Sfoderata Pulita Quasi più bella Di quelle comprate Perché soprattutto La taglia cuci Rifinisce In modo veramente Incomiabile Le nostre elaborazioni E il cinturino Combaccia La perfezione Nel punto Della cerniera Zip Invisibile E poi Il lato bello È che questa gonna È davvero Su misura Realizzata Secondo il nostro gusto La nostra Il nostro gradimento E secondo Quello che ci piace Davvero di più Abbiamo visto Nel programma di oggi Il cartamodello Il tessuto ideale Le fliseline La taglia cuci Le cuciture principali Il cinturino Con cerniera L'orlo Il progetto completato Abbiamo fatto veramente Un tutorial ricchissimo Per cui Bene Quici amiche E quici amici Vi ringrazio di cuore Per aver condiviso Con me Questo video tutorial Sartoriale Se vi è piaciuto Cliccate un bel pollizione Alzato Per supportarmi E supportare questo video E farmi capire Che vi è piaciuto E iscrivetevi al mio canale Spuntando anche la campanellina Per restare sempre Sintonizzati Su tutte le mie pubblicazioni Un abbraccio Sartoriale La vostra Sara Poiese